benvenuti a dalla vigna al vino un podcast in collaborazione tra il consorzio friuli coli orientali e remandolo e la taverna friuliwine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei coli orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Grande Pignolo, Pignolo un vitigno mitico e siamo qui al Tasting Academy di coli orientali del friuli e remandolo con Matteo Bellotto e Francesco Scalettaris e oggi parliamo di Pignolo. Dove si comincia con questo vitigno? Come si può fare un'introduzione di un vitigno così mitico, non posso pensare di un'altra parola. E poi come introdurre qualcosa che non esiste, per cui è bellissima questa cosa. Intanto la storia del Pignolo è molto lunga, molto lontana. Possiamo partire dal nome, molto semplice, da dove nasce proprio questo nome, che è dalla forma del grappolo, che è una forma di pigna in questo caso. Per cui questo è giusto per dare una piccola indicazione che ci sta seguendo. Il Pignolo sono 69 gli ettari che sono vitati nella nostra regione, in tutta la regione friuli Venezia Giulia e sono tantissime le aziende che lo producono. Mi pare 65, per cui per ognuno è la piccola nicchia. Il piccolo gioiellino. Il piccolo gioiello, la piccola perla della cantina in questo caso. Però immagino che poi ci sarà chi dopo di noi lo racconterà molto meglio. Immagino che ci sarà Ben Glitter, che è l'uomo più pignolo del mondo in questo caso. Mestre Pignolo. Ebbene, al di là di questo, del Pignolo si può dire questo. Il Pignolo nella sua storia ci deve insegnare tanto, perché è un vino che è stato salvato. È un vino che è stato salvato e lega la sua storia ovviamente all'abbazia di Rosazzo, tant'è vero che poi nei colli orientali, tra le cinque sottozone, c'è anche quella del Pignolo di Rosazzo, appunto, rivendicato da pochi ma esistente, dove grazie al lavoro di Walter Filipputti, insomma questo bisogna riconoscerlo in maniera molto potente, è stato salvato. Il Pignolo è un vitigno, un'uva che stava venendo abbandonata per più motivi. Intanto perché produce molto poco. Noi sapevamo che i contadini che dovevano lavorare per quantità, ovviamente, si sono sempre trovati molto in difficoltà con questo tipo di uva. Secondariamente perché ovviamente per poterlo produrre e per poterlo rendere bevibile in qualche modo necessita di molto tempo. Perché? Perché il suo tannino è molto molto potente in questo caso. Se voi provate ad andare poco prima della vendemmia in campagna e assaggiare un acino di Pignolo, vi ritroverete come a dover leccare un muro o un sasso. Insomma questa astringenza potentissima del tannino è un qualcosa che ne rende proprio la sua caratteristica peculiare. Molto diverso rispetto ai riefoschi che giocano sì sul tannino ma in realtà più sulle acidità, il Pignolo ha nel tannino proprio la sua anima e il suo carattere esprimentesi in questo senso. Ora è chiaro che comunque essendo una nicchia di una nicchia, perché il Pignolo, come detto, sono pochi gli ettari e tanti i produttori riferiti agli ettari, però è un qualcosa che si vede proprio nella sua evoluzione del tempo. Ecco, certamente è un vino che ha la grande capacità non soltanto di evolvere nel tempo ma che necessita proprio di dover richiedere al produttore e anche a chi poi lo assaggia tanto tempo di attesa e di riposo, che sia in cantina o che sia poi anche nel momento in cui lo si assaggia. È un vino che pretende attenzione, è un vino che pretende molta concentrazione ed è un vino che non si beve facilmente, non perché insomma non sia di bella beva, ma perché richiede una concentrazione tale che sia riferita poi alla concentrazione che lui ha nel suo sorso, per cui viene a chiederti veramente tanto rispetto a quello che devi assaggiare. Se posso aggiungere un'altra parola di questo elenco di parole di Pignolo, un'altra sarebbe pazienza. Perché devi avere pazienza non solo per il vino per sviluppare in bottiglia o in botte a quello che c'è, questo lunghissimo periodo di invecchiamento, però devi avere pazienza anche in vigne, perché l'abbiamo visto che veramente un vignetto giovane di Pignolo non rende il Pignolo vero. Deve avere almeno dieci anni, ma più anni che va avanti questi viti, queste piante, più vecchie che diventano, più bellissime, più anche facile diventa il vino. Allora devi avere prima questa pazienza in vigne che le piante diventano maturi, che maturano lentamente e dopo il vino stesso deve avere pazienza per arrivare alla perfezione. Ma certo, assolutamente, anche perché se noi vediamo anche gli anni di impianto di questi 69 ettari, scopriamo che la maggior parte di essi sono piantati all'inizio degli anni 2000 in generale. È stato riscoperto alla fine degli anni 70, ma in realtà poi adesso dobbiamo riferirci a questi dati. Quindi in realtà la maggior parte delle piante ha un'età che solo ora ci sta dando l'uva in equilibrio e poi ci devi aggiungere anche il tempo di attesa in cantina. Per cui veramente stiamo assistendo a quello che è un po' l'invisibile del vino in questo caso. La mia idea sul pignolo è un po' simile in realtà a quella di un altro vino rosso friulano, che è quello del Tazzelen. E io sono un grande fan del pignolo, un po' perché così come sono un grande fan in realtà delle cotture lente, non so, del barbecue Wayne, tu ne sai qualcosa, delle nostre cotture da 10, 12, 14 ore. Ed è affascinante quelle cose che solo il tempo, quegli ingredienti, quell'ingrediente, il tempo che è quello che spesso risalta su tutti gli altri. Spesso nel mondo brassicolo della birra si dice che il tempo non rispetta chi non ha avuto tempo. Secondo me per il pignolo questo è un proverbio, un detto che insomma si adatta molto bene. Un vino che deve aspettare a lungo prima di riuscire a domare i suoi tannini. E prima facevo riferimento col Tazzelen. Perché? Perché secondo me c'è un certo interesse, lo vedo, una certa riscoperta di vitigni che magari fino a qualche tempo fa non erano granché considerati. E se fino a 20 anni fa era la cosa più normale andare in un bar e chiedere uno chardonnay, per esempio, un merlot in purezza. Mi dico non solo in Friuli, in tutta Italia. Ecco che adesso sta diventando molto più difficile. Difatti sfida un po' chiunque a pensare all'ultima volta che hanno ordinato un calice di chardonnay da solo, per esempio. Si tende sempre di più ad andare a cercare questi vitigni autoctoni. E questo anche è stato il successo di tante doc, per esempio il nerello nella doc etna, o la falanghina, il pecorino. Sono tutti i vitigni che stanno, che prima magari dedicati a un consumo e alla produzione locale, stanno crescendo. E io onestamente sono convinto che sia il Tazzelen da una parte, ma anche e soprattutto il Pignolo, possano diventare dei grandi vini che rappresentino il territorio friulano. Fatto sicuramente di vini bianchi, dove l'eleganza friulano e in particolare dei Cogli Orientali, ovviamente, dove sicuramente l'eleganza, la sapidità, la mineralità, la verticalità dei vini bianchi è qualcosa che tanti ci invidiano, ma anche la potenza, la struttura e l'unicità di certi vini rossi, fra cui appunto il Pignolo. Ho fatto una bellissima conversazione con Randall Graham un paio di mesi fa, all'inizio dell'anno, e lui ha detto una cosa molto interessante su Pignolo, ma anche su Schioppettino, durante le conversazioni di Pignolo. Lui ha detto che il Pignolo è uno di questi vitigni che quando lo aggiungi qualcosa al Pignolo viene sempre meno buono. È un vino che non viene migliorato con l'uvaggio. Siete d'accordo? Ma io non ho le competenze per poter dire questo da un punto di vista enologico. conosco i Pignoli che ho assaggiato, eccetera. Sono più divertito, secondo me, e esaltato dal Pignolo sul fatto che un vino del genere sia, questo come altre nicchie, il vino può abbattere la globalizzazione. Io ci tengo molto a questo aspetto. Io credo che difendere questi vitigni sia abbattere l'idea, il concetto stesso che il vino possa diventare una bibita, ma che questi vitigni possono essere l'espressione singola di territori, magari con delle nicchie molto piccole, ma capaci di dimostrare che questa è una completa e precisa opera d'arte della natura portata avanti dall'uomo. Solo l'uomo può sbagliare in questo caso, per cui, per dar ragione a quello che hai appena detto, ti dico di sì. Ti dico di sì, ma non tanto per un blend o l'altro, che quello io non lo so, ma so che la natura fa un lavoro perfetto e poi il fatto di sbagliare è relegato a quello che fa l'uomo. Una volta un produttore mi ha detto il 90% del lavoro lo fa la natura, il 10% forse meno lo facciamo noi ed è in quel 10% che si sbaglia. Per cui, in realtà, più che nel blend tra pignolo o altre cose, ho paura del blend tra natura e uomo. Hai capito? Molto bello. È molto bello questo commento che un vitigno può battere la globalizzazione. E questa è molto la filosofia di Ben Little, che adesso lo ascoltiamo con la seconda parte del podcast. Fantastico. Pignolo. Pignolo con il mio amico. E abbiamo un attimo diverso il formato questa volta, perché solitamente facciamo questa porzione del podcast con un produttore, però adesso abbiamo un autore, un scrittore, un artista, grandissimo amico mio, Mr. Ben. Un prod autore. Grazie, Ben, per essere qui. Mr. Pignolo, grazie per passare un po' di tempo con me. Grazie, Wayne. Ben, ovviamente tu hai scritto questo bellissimo libro su Pignolo. Allora voglio parlare un po' del tuo rapporto personale con questo vitigno. Come mai? Pignolo. Wow. Stai partendo con la domanda più difficile. E probabilmente la risposta più semplice, ma non superficiale. non ho scelto il Pignolo. Il Pignolo ha scelto me. Ok. Questo potrebbe significare tante cose, ma questo rapporto è diventato proprio personale. perché non sapevo, non avevo un'idea del progetto all'inizio. Sono partito con l'idea di fare un piccolo approfondimento sulla varietà del Pignolo con quindici nomi, aziende più o meno nei coli orientali. e sono partito bussando sulle porte, perché sicuramente in inglese non c'era niente scritto, ma anche poco scritto in italiano. Quindi era necessario di andare in giro per scoprire che cos'è o che significa il Pignolo. Dopo sette anni tante cose sono cambiate, ma sicuramente il mio rapporto con il Pignolo è sempre più forte e va sempre verso una profondità dove non sono mai stato, direi anche con una persona. Wow. Ah, allora, un rapporto di amore praticamente. Proprio così. Come ho scritto nel libro, quello che mi ha portato a scrivere il libro era la scoperta del significato dell'invisibile, che questa è stata una parola che mi seguiva per i primi tre anni della ricerca. Della ricerca, sì, pensando perché questi produttori, perché a quel momento poi credo che ho raggiunto circa 55 aziende, quindi partendo con 15, e tra di loro mi hanno detto che siamo in 20, 25 al massimo, e poi sono arrivato a 55 e poi il numero è continuato sempre a crescere e anche oggi sta crescendo. Sono stato colpito di questa attività nascosta. Esatto, proprio invisibile. Proprio invisibile. Perché secondo te? Perché invisibile? Ma è collegato al nostro mondo quotidiano oggi, sin dall'inizio della rivoluzione industriale, solo 260 anni fa. Ogni giorno è diventata sempre più veloce che quello precedente. Sì, mentre 100 anni fa la vita era probabilmente ancora come era 260 anni fa, oggi non è così. Infatti la vita di oggi rispetto a 5 anni fa è una cosa diversa. Infatti quando penso della tecnologia, gli avanzamenti, gli sviluppi, credo che il problema di visibilità o invisibilità è collegato alla velocità con cui viviamo le nostre vite. E se si pensa così in un modo commerciale, subito si direbbe che il pignolo non è una varietà economica. Non c'è un motivo commerciale, un motivo economico per produrre il pignolo, mentre continuano quasi alla cieca. Quindi all'invisibile e alla cieca. Perché non c'è una guida per nessuno. Sì, fino a questo punto direi. E tutto è collegato alla benedetta economia. che sembra che siamo forzati di seguire. Ma il pignolo segue un altro percorso. Un altro... Proprio un... Vive in un universo parallelo. Aha. Sì, volevo un po' dire questo. Secondo te c'è questa idea, allora l'idea che mi dai. Ed è che pignolo con questo concetto di avere pazienza e non correre. E' un tipo di... Non so se voglio dire antitesi o antidote. Antidoto? Antidoto? Antidoto. Contro questo mondo. Diciamo entrambi. Direi, forse entrambi. Sì, è l'antitesi della velocità. Ma anche potrebbe essere considerato un antidoto per uno che sta soffrendo dalla velocità. Quasi un elixir della vita evoluta. Invece, io penso, sì, o il pignolo mi ha portato a pensare della mia umanità in un modo molto semplice, il fatto che oggi, come il mondo è cambiato in questo periodo molto breve, solo 260 anni. Con il pignolo quello che ho scoperto è un'altra vita, proprio. È un modo di vivere. E a questo punto, chiaramente, ho scelto di seguire sempre di più le lezioni che il pignolo mi dà quotidianamente. invece dell'educazione formale che ho ricevuto nelle aule di Trinity College a Dublino. Ma grazie al pignolo. Questo è proprio il lato emozionale, il lato artistico. Tornando al libro, volevo chiedere di una delle più bellissime quotazioni nel tuo libro, che spesso parlo di questa cosa, quando parlo di pignolo, che tu hai detto che, provo di fare anche in italiano, che pignolo non è una bomba tannica di essere disinestato, e si dice così. O disarmata. Disarmata, sì, esatto. Parlare un po' di questa idea, di questa frase, che secondo me è bellissima. Questo è proprio collegato alla storia delle descrizioni della varietà dell'uva e del vino pignolo. e tutti sono nati, direi, nell'epoca di Guido Poggi, perché, quindi parliamo degli anni 20, 1920, fino a, sì, 1970, quando c'era, infatti, una mancanza di ricerca, Guido Poggi era l'unico in quel momento, e a parte dell'Abbazia, nessuno faceva il vino. E quando si pensa di come hanno fatto il vino in quell'epoca, in Friuli, e particolarmente i vini rossi, la crudità di quei vini rossi si potrebbe immaginare dal punto di vista dell'uva immatura, se si parla di pignolo immatura, immaturo, la sua carica o il suo contenuto dei tannini è incredibile. E quindi, naturalmente, il vino sarebbe stato considerato tannico. Ma, dobbiamo, direi, relegare, se quella è la parola, to relegate, lasciare da una parte questa descrizione, perché il pignolo moderno è proprio un'altra uva e un altro vino. Ok. E questo, di nuovo, è collegato al discorso di la differenza fra conoscenza e comprensione. E credo che i produttori, i viticoltori, stanno costruendo proprio una banca di comprensione che non esisteva nel passato. è collegato anche alle tecniche in diversi modi di fare la cura in vigna, ma anche di vinificare e poi elevare, becchiare il vino in cantina. E questo è un po' collegato con questa idea che tu stai spingendo, proponendo nel mondo, di questa idea del pignolo raro. Sì, sì, sì. Puoi descrivere? Sicuramente, sicuramente, tu hai menzionato prima il discorso della pazienza, il tempo e l'equilibrio. Queste sono tre parole, sembrano banali, poche importanti, però sono importantissime quando si parla del pignolo. La scoperta dell'individualismo di più di dieci produttori che hanno raggiunto uno da solo. Non collaborato. Non collaborato. Allora, non comunicando facciamo questo insieme. No. Ok. Quindi, da soli hanno raggiunto questo cerchio di dieci anni di elevage, invecchiamento in cantina prima della commercializzazione del pignolo. Significa oggi che per alcuni di loro avendo raggiunto questo non sono più spinti dal mercato, dall'economia di rispondere alle domande del mercato che abbiamo bisogno di avere subito. no. Ovviamente, se si parla di altre varietà, non voglio nominare i soliti, perché anche per rispetto delle varietà dell'uva, ma bianchi, ma anche rossi che sono commercializzati troppo presto. in quei casi si può incontrare alcune bombe tanniche compreso pignolo o pignoli diversi, ma quando si dà l'attenzione al soggetto quando si cerca di assaggiare quello che sta venendo fuori dalle cantine, subito si può capire che il pignolo non è una bomba tannica, che i tannini non sono oggetti componenti di essere dominati, domicilati, come si dice, domesticati, domesticati, sono proprio sorsi, grandi sorsi di anima e di energia, sono componenti che possono aiutare questi vini rossi. di vivere o di seguire un percorso potenzialmente infinito. Bello. La chiave non è di conoscere, è di capire. c'è questa velocità di dimostrare che io conosco prima del vicino. Ok. Arrivare prima. Arrivare prima. Di essere sempre il primo. Infatti quando penso di quel concetto, anche penso di il profeta Gesù. Ok. Cosa ha detto? Che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi diventeranno i primi per entrare nel regno infinito, eterno. Eterno, esatto. Guarda, il pignolo è proprio collegato alla vita eterna, all'infinita. Il pignolo è un gioco infinito, non finito. E questo è il motivo che a me piace, il pignolo. Bello, bello, bello. Grazie ben tantissimo per tutto questo tempo dedicato. Spero, spero che almeno sì, è un soggetto profondo, non facile da capire in dieci minuti o anche mezz'ora. Comunque spero che per gli ascoltatori che avrebbero preso qualcosa, ma dall'informazione tecnica ma anche da questo lato emozionante. Per questo è per cui ti ho chiesto di venire qua. Ok, bene. Grazie. Grazie Wayne. Ciao, ciao. Ciao. Attività realizzata con il contributo del Masa ai sensi del decreto direttoriale numero 553 922 del 28 ottobre 2022.